Sognate di lavorare in una multinazionale dinamica e innovativa e diventata un vero e proprio impero commerciale come Amazon? Le opportunità per persone che parlano italiano a Londra di entrare nell'azienda sono buone, anzi ottime, in quanto la piattaforma e-commerce ricerca di frequente figure specializzate soprattutto nel customer service e in grado di padroneggiare più di una lingua, incluso l'italiano. Ne parliamo subito, ma prima di tutto, sigla! I percorsi all'interno di Amazon sono molti, come puoi ben immaginare, ma come nel caso di tutte le grandissime aziende la competizione è altissima e una volta assunti i ritmi di lavoro possono essere molto ma molto stressanti. Tutto ciò non ti scoraggia? Bene. Allora innanzitutto per trovare lavoro ad Amazon è bene capire quali siano i principi su cui si basa il gruppo e che ogni Amazonian deve rispettare e avere sempre bene nella capocciona ogni giorno, anche in fase di colloquio. Ossessione per il cliente e il servizio a loro offerto. Ognuno agisce per il bene di tutta l'azienda e non solo per la sua di parte. Innovazione e semplificazione. Buon istinto e senso del giudizio. Assunzione solo dei migliori e dei talenti eccezionali. Avere standard sempre a pensare in grande e agire, agire, agire e agire. E poi è ovvio, essere curiosi e avere tanta voglia di imparare. Meritare fiducia, ottenere risultati, è importante questo. Avere spina dorsale ed impegnarsi, l'impegno viene sempre premiato. E anche sapere operare su tutti i tipi di livello. Se questa lista non vi ha dissuaso, e spero davvero di no, perché dovete cacciare le palle così, dovete sapere che ci sono vari modi per entrare a lavorare ad Amazon. Il primo dei quali è tramite tirocinio rivolto soprattutto ai neolaureati. Finalmente ragazzi, eh, vi potete lasciare sfruttare anche da Amazon. Avere frequentato un'università prestigiosa, avere ottenuto voti eccellenti, sapere dimostrare di essere persone di talento, saper lavorare a ritmi sostenuti e in un ambiente in continua evoluzione sono tra i requisiti richiesti. Eh, mica poco. I tirocini avvengono in varie aree. Al momento, per esempio, su Londra, sono ricercati tirocinanti e neolaureati in ingegneria o ricerca tecnica. In descrizione troverete il link con tutti gli annunci. L'altra grande area per cui Amazon ricerca personale nel Regno Unito, nel Regno Unito, vada bene, non in Italia, è il servizio di distribuzione ordini al centro dell'esperienza Amazon, in quanto l'azienda è diventata leader mondiale nelle consegne a milioni e milioni di persone in centinaia di paesi nel mondo. I team di Amazon possiedono elevate capacità di esperienza in diversi settori, dall'analisi commerciale alla gestione dell'inventario, fino alla progettazione vera e propria. Date sempre uno sguardo nella descrizione per i link utili, eh, mi raccomando. Inoltre, a volte Amazon, aprite bene le orecchie, dà l'opportunità di lavorare a distanza, ossia virtualmente e da casa, a soggetti qualificati che non vivono vicino alla sede di Amazon o a quella di vostro interesse per il lavoro specifico che state cercando. E mica una cosa da poco. Quindi massima flessibilità. Why you, questo è il futuro. Credo che per oggi sia tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto almeno un poco, poco, poco. Mettete un like se è così, oppure un dislike per il contrario. Almeno mi fate capire cosa fare nel prossimo video. Credo comunque che i video sull'amore siano sempre piuttosto graditi, o mi sbaglio. Se avete da dire qualcosa in merito, lasciate un commento qua sotto e se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al mio canale attivando le notifiche e cliccando sulla famosa campanella che trovate appunto vicino al tasto iscriviti. Se invece state vedendo questo video su Facebook, semplicemente cliccate sul tasto Mostra per privi. Ok. Credo di aver detto tutto. Ci possiamo salutare. Siete belli e ciao! Ciao!